Centinaia di migliaia di turisti rischiano di restare bloccati all'estero, nei paesi dove erano andati in vacanza. È una, ma non l'unica delle conseguenze del fallimento della Thomas Cook, l'agenzia di viaggi britannica, la più grande e antica a livello mondiale, che ha dichiarato bancarotta chiedendo la liquidazione straordinaria dopo mesi di trattative con i creditori naufragati la scorsa notte. Abbiamo un volo ora, ma siamo comunque molto delusi, dice quest'uomo. Non ci hanno detto nulla per sette ore, adesso vediamo. Va tutto bene, sono riusciti in breve ad organizzare il nostro rientro, dice invece quest'altro uomo. Il governo britannico sta mettendo in piedi un ponte aereo per riportare a casa i turisti bloccati all'estero. 150.000 sono cittadini del Regno Unito, coinvolti anche centinaia di italiani per cui il Codacons chiede un intervento della Farnesina. Un milione circa, i clienti invece che hanno già acquistato pacchetti viaggio, ma che non partiranno mai. Il fallimento della Thomas Cook è un vero e proprio tsunami che travolgerà migliaia di albergatori in tutto il mondo che vantano crediti milionari con il Tour Operator di Londra. Tanti sono anche quelli italiani. Uno shock per il turismo nel nostro paese lo ha definito il presidente di Federalberghi, Alessandro Nucera. Un fulmine a ciel sereno anche per i circa 22.000 dipendenti di Thomas Cook sparsi in tutto il mondo che adesso rischiano di perdere il loro lavoro. Diversi fattori hanno contribuito al fallimento del gruppo inglese fondato nel 1841. Innanzitutto la spietata concorrenza dell'agenzia online e delle compagnie aeree low cost, ma anche il clima interno di instabilità provocato dalla Brexit, che ha dissuaso dal viaggiare molti dei suoi clienti.